Tu ma stasera, no! Tre aie Un pochino di neve, un attimino di neve Non le possiamo vedere Possiamo vedere il dottor Stremo Un'attenuta estiva Che fa menta, panino, panino, pasta, arancini, calzone, tutto, vino E poi un bel grappino alla fine Per digerire il tutto E riscaldare ancora di più i muscoli C'è per niente neve oggi No, pochissimo proprio Piccoli cumuli Possiamo aggiardare anche ad andare a Montalto, che dici? Eh? Una capatina a Montalto? Il 1700? Come sarà neve? Si, si può fare Un figlio Ma se lo faccio? Che prendi all'ottomani? Anche a te Faccio a te Quanto, faccio a te Ehi, fila A casa! A casa! Eh! Qua c'è il bus! Qua c'è il bus! Ma è fino a un pindone! Guarda! 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 Dove c'è scritto qui? Dove c'è scritto qui? Dove c'è scritto qui? Posso? O là, o là Andiamo a cercare qua Dobbiamo essere nel bianco Nel bianco Guarda qua il casco Ma io non sto a cercare Vittimini Vittimini E ci sono messi a bucazzo Ma le moglie niente No, le moglie a casa Le moglie? No, no, le moglie a casa Sono i figli E come al figlio la nascata Non fate ironia Ma io che ne ando a fare qui giù? Guarda autoscatto Guarda autoscatto Guarda Guarda Non lo mi ricordo Vabbè non è facile Vabbè E E Mene Ma E E E VOLVERE! VOLVERE! ME LA SONO FASTO! VOLVERE! VIETRIINO! E' fantastico! C'ho fatto questi cazzi di bicicletti che ho la nava chi mi la lì? Da 100 anni! Ho! 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 E' davvero il 1002? Facciamo la tosta. E' io? E' io! VOLVERE! ma c'è fatto se lo stacco se lo stacco hotel marromo hotel marromo hotel marromo no non ci potete fare che cazzo fare? non uscanniamo ma anche questa cazzo è borraccia vedo a cazzo e dai no ma f***** non ho i pantaloni come io venite o no non hai i pantaloni come voi venite o no no veramente no mi sto bagnando di nuovo comunque vai no no mi sono cambiato le cazzo ma che cazzo sta giocando da tu ma che cazzo sta giocando da tu vieni a stare i veri imputtati guarda quanto cazzo è in fondo stacco facci una foto riprendi qua dammi una ora dammi una ora dammi una ora dammi una ora f***** f***** vai che ci lo stia basta 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 Ahahahahahahah Eccucie Non sono due parentesi Non è necessario Non è necessario Non è necessario Non è necessario a me la parte di Leo Barco dietro a me la parte di Leo Barco a me la parte di Leo Barco a me la parte di Leo Barco non lo so non lo so non lo so non lo so non fate non fate i bambini andiamo non lo so ciao 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 no 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 ecco vediamo dietro canziani con un paio di calze in mano legnose vincite come un baccalà guarda 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 osservate non saranno mutande come dove si insedite dove è il cassonetto? il santuario di polsi guarda 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 c'è quella che c'è lì ti faccio vedere le frecce della felicità la felicità Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.